Sono Massimiliano Longo, docente di Icafosca Riccialle School. Il corso Gestire l'IVA nei rapporti con la pubblica amministrazione è un corso molto compatto, 8 ore, una giornata piena, ma che vogliamo rendere molto accurato, approfondito e utile agli addetti ai lavori. Sul piano degli approfondimenti della normativa IVA, questo è un tema che ha tante sfaccettature, come gli addetti ai lavori sanno, il confine sempre incerto, sempre mutevole, sempre in evoluzione fra l'attività istituzionale e l'attività commerciale, il diritto o meno alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, su questo come si sono andate evolvendo le norme, le interpretazioni, le pronunce anche a livello europeo di direttive e sentenze della Corte di Giustizia Europea. Faremo quindi un punto accurato per consentire agli operatori di gestire al meglio il profilo IVA della loro attività, cosa che ovviamente gli addetti ai lavori sanno avere una serie di ricadute importanti dal punto di vista anche della corretta programmazione della spesa, dell'eventuale esercizio o meno del diritto alla detrazione e conseguentemente perché no, dell'eventuale risparmio d'imposta quando le leggi lo consentono. Su questo programma ovviamente i dettagli li potete trovare nell'ambito del sito della CAFOS CARICIALE SCHOOL. Grazie. Grazie. Grazie.